Musica 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 Grazie a tutti. 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 In questo caso bisogna disputare l'extra round. Grazie a tutti. 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 Un applausi a tutti. Vince a tutti. e a tutti. Quarto match. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. 3 round da 3 minuti all'angolo rosso viene da Vaprio Dada Alessandro De Stefani 3 round da 3 minuti all'angolo rosso viene da Milano campione italiano 60 tirogrammi Roberto Urrachi 5 minuti all'angolo rosso viene da Vaprio Dada Alessandro De Stefani 5 minuti all'angolo rosso viene da Vaprio Dada Alessandro De Stefani 5 minuti all'angolo rosso viene da Vaprio Dada Alessandro De Stefani 5 minuti all'angolo rosso viene da Vaprio Dada Alessandro De Stefani 5 minuti all'angolo rosso viene da Vaprio Dada Alessandro De Stefani 5 minuti all'angolo rosso viene da Vaprio Dada Alessandro De Stefani 5 minuti all'angolo rosso viene da Vaprio Dada Alessandro De Stefani 5 minuti all'angolo rosso viene da Vaprio Dada Alessandro De Stefani Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.